Lo avevamo detto, avremo rimesso in strada i minibus elettrici. Da lunedì riparte una nuova linea, la 119, che si occupa e si occuperà di coprire il centro storico. Via via che arriveranno nuovi minibus, implementeremo la linea e allungheremo l'orario chiaramente di esercizio. Speriamo di fare una cosa gradita, un regalo gradito ai romani, quindi si potrà circolare per il centro storico su autobus non inquinanti. Una linea completamente elettrica, quindi che andrà a servire un quadrante fondamentale per la città, tutto il profilo turistico, del commercio, ma anche i cittadini che risiedono in quella zona. Tutto è esattamente sostenibile, completamente sostenibile, in quanto ricordo che questo minibus è completamente elettrico, elettrico al 100%.